messaggio di saluto del ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa maria elisabetta alberti casellati a built in italy l'italia che abiteremo by remind gentile presidente paolo crisafi le sono grata per avermi invitato al convegno built in italy l'italia che abiteremo by remind ed in particolare alla sezione dedicata al tema progettare il futuro desidero manifestare la mia adesione all'iniziativa che ha il merito di promuovere una profondita riflessione su problematiche di grande attualità e che è testimonianza dell'attivismo di remind intorno alle questioni strategiche per il nostro sviluppo esprimo pertanto il mio apprezzamento per un evento che indica quali siano le idee e di modelli da cui trarre ispirazione per rigenerare il nostro paese per costruire ulteriori opportunità di crescita per tutti e soprattutto per le nuove generazioni rinnovo quindi il mio ringraziamento a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del convegno a cui auguro pieno successo ed invio a lei e a tutti i partecipanti i miei più cordiali saluti